Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, si susseguono le notizie su questo Soumaoro, questo deputato astronascente di sinistra italiana, eccetera, eccetera, e ogni giorno se ne scopre qualcuna. Diciamo che ormai se ne conoscono veramente, veramente tanto. Ma già dal 25 ottobre, che cosa? Va bene. Parliamo sempre di Striscia la notizia, il caso delle cooperative gestite dalla suocera del deputato, nella puntata di mercoledì 30 novembre, sulla vicenda indaga Pinuccio, di Striscia la notizia, con nuove rivelazioni e alcune incongruenze sull'operato della Lega Braccianti, gestita dall'ex sindacalista Soumaoro. Doppie richieste all'Inps per il sussidio di disoccupazione agricola. Ai 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 ai, diceva qualcuno, un presentatore tanti anni fa, ai 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 signora Longari, ai 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 ai. Doppie richieste all'Inps per il sussidio di disoccupazione. Francesca Di Credico, sindacalista Fai Cisle, dice ci sono arrivate delle richieste duplicate, prima inviate dal patronato che aveva un accordo con Soumaoro e poi di nuovo dal sindacato dei lavoratori. Il risultato è che le domande sono state bloccate, con grave danno economico per i braccianti. Eppure, sottolineano dalla redazione del programma, entrambe le richieste avrebbero dovuto riportare la firma del lavoratore. Peccato che quelle inviate al patronato di Bari, che aveva accordi con la Lega Braccianti, potrebbero essere false, dato che i braccianti stessi hanno rivolto all'Inps delle lettere di diffida che di fatto disconoscono quelle domande. Dice la sindacalista Di Credico. Ebbene, avete capito? O ve lo devo spiegare meglio? Non sarà che chi l'ha fatto ha agito per intascare la percentuale di soldi prevista per ogni disoccupazione erogata? Si interrogano sempre da striscia la notizia il TG satirico di Ricci. E fanno sapere ancora di aver iniziato a contattare Soumaoro dal 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia. Dicono, ma fino ad oggi non abbiamo avuto risposte dirette. L'onorevole Abu Bakr Soumaoro è finito così al centro di questi scandali delle cooperative sociali gestite dalla suocera per i fondi spariti dalla Lega Braccianti dopo le accuse raccolte da striscia la notizia dei suoi ex soci. Ecco, ci sono fondi, cioè quando si parla di fondi che cosa vuol dire? Si parla di soldi spariti, doppie richieste, richieste poi bloccate, ci rimettono i braccianti, si chiedono spiegazioni e non ci sono risposte, lui non risponde. Ecco, io mi sono fatto una mia idea personale che la tengo per me, ma io vi riferisco le notizie e le commento. L'idea personale che ho di questo Soumaoro è ben ben precisa, è un tipo di personaggio, di persona che io parecchie volte ho conosciuto persone così, quindi so per la mia esperienza queste persone che tipo di modus operandi hanno le finalità, ne ho conosciute diverse, devo dirvi, nella vita e spesso, sempre direi, sono persone molto intelligenti, sono persone molto intelligenti che poi tu dici, caspita ma la sua intelligenza l'ha utilizzata per fare queste cose qua. Eh sì, ne ho conosciute diverse, molto intelligenti, sono convinto, non conosco questo deputato Soumaoro, ma sono convinto che sia una persona estremamente intelligente, che però ha deciso di utilizzarla in un modo su tutto suo, diciamo. Sta venendo fuori di tutto, di tutto, di tutto, possibile che tutte queste cose che vengono fuori siano tutte false, tutte fatte contro quest'uomo e contro la moglie e la suocera? Possibile che ci sia la magistratura, la guardia di finanza? Tutti sono cattivi? No. Quando tutti risultano cattivi vuol dire che un fondo di verità c'è. Io vi terrò informati su questo caso, anche perché sono i casi del momento, insomma. Magari fra dieci giorni ci dimenticheremo tutti di questo nome e cognome, sarà un deputato che diventerà anonimo, starà lì nel gruppo misto, si prenderà i suoi soldi da deputato per cinque anni, poi avrà il vitalizzo e la pensione e vedrete che sparirà assolutamente dalle notizie sui giornali. Di solito i giornali cominciano con queste cose qua, vanno avanti per un po' e poi si cambia, si cambia notizia. Intanto sembrerebbe che la Meloni vada avanti con il bancomat, la cosa di 60 euro, insomma. Da quello che io ho potuto capire è che la Meloni quando decide una cosa va avanti per la sua strada. In più, se la sinistra comincia a dire eh no, lei ancora di più lo fa, anche se poi non è più convinta, lo fa lo stesso solo perché la sinistra gli ha detto che non piace. Bene, grazie a tutti per avermi ascoltato, ci vediamo tra una ventina di minuti. Ricordiamoci che c'è anche poi Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te e poi nuovamente c'è anche, questi video poi vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Non solo i video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, ma anche quelli di In Cucina con Carla, Carla con la K e anche poi quelli relativi a un altro canale che si chiama Tutorial Uncinetto con Carla. A chi interessa l'uncinetto e la cucina ci sono anche questi due canali che sono di mia moglie, magari dategli un'occhiata, fate contenta anche lei. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.